Eccoci di nuovo insieme, direttamente dalla Sardegna. La domanda che sento più frequentemente quando sono in negozio è Ma signorina, cosa mi consiglia? Consiglio di saponetta o genitale? Il cuscino che consiglio è quello a forma d'onda Perché è costruito per rilassare e sostenere i nostri muscoli del collo e le cervicali È preferibile per chi dorme a pancia in su e di fianco Ma non per chi dorme a pancia in giù In caso il cuscino saponetta incontra i gusti di tutti Perché è un cuscino classico ed è adatto anche a chi dorme a pancia in giù L'importante è scegliere la altezza giusta Fatti consigliare da un nostro esperto per scoprire qual è il cuscino più giusto per te Adesso vado a farmi un bagnetto, alla prossima! Ciao!